Mi chiedo, se alla fine sarà il caos di vicino, i segnali vanici sono già visibili, nell'assoluta inconsistenza di un tangibile che affana nella dilatazione dei pochi, nelle rare attrazioni frequenti, pensare a un replay della scena è congruente con l'andare delle cose, nulla si realizzera nella volta celeste lì, tantomeno qui in terra, procediamo a passi lenti verso il silenzio e l'inerzia e infranciare un altro o una vibrazione sarà come trovare l'altro compaglia che, ahimè, sarà a sua volta da pezzi. Date il membro. Grazie.